Contenimento dei costi, rafforzamento dell'identità del marchio Verona nel mercato internazionale dell'agroalimentare e uno sguardo all'Europa, in particolare alla Germania e all'Asia per ovviare i danni dell'embargo russo. Queste le parole del nuovo presidente di Verona Mercato Andrà Sardelli, nominato e insediatosi formalmente oggi in quota Stefano Casali nello scacchiere delle nomine. Accanto lui in conferenza stampa Daniele Polato, assessore alle partecipate, il comune infatti è socio di maggioranza con il 75% della S.P.A. e se Polato parla di contenimento dei costi dell'azienda, Sardelli spiega la complessità dell'impegno che lo attende. E' di tutta evidenza che mi attende un compito anche abbastanza impegnativo, visto anche il periodo di crisi, soprattutto per quanto riguarda magari proprio nella nostra provincia, abbiamo visto la frutta, faccio l'esempio delle pesche e quant'altro, quindi penso che dovremo rilanciare la Verona Mercato anche per dare una mano ai nostri operatori e quindi penso che sia ottimale riprendere anche dei rapporti con l'estero che tra l'altro già ci sono. Sardelli prima di sbilanciarsi vuole confrontarsi con i suoi consiglieri. La prima cosa che farò ovviamente sarà quello di riunire tutti i membri del consiglio di amministrazione, mi riferisco non solo a quelli di nomina ovviamente comunale, della quale io ovviamente sono espressione, ma anche quelli dei due soci privati. Penso che sia giusto e corretto condividere anche con loro le strategie, visto che rappresentano comunque anche il mondo economico territoriale veronese. Il vice di Sardelli sarà Diego Begalli, in quota Michele Croce, completano il CDA Elisabetta Molona, anche lei di nomina politica, e due rappresentanti del mondo dell'impresa, il presidente uscente Gianni Dalla Bernardina e Adele Biondani.